Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR il gesto delle mani è compreso nella presentazione no, scherzo allora, oggi sono qui per registrare la richiestissima hair girl routine prima però voglio fare, vi devo dire due cose ecco, non sono tutte e due premesse una è una premessa, una è una cosa che non c'entra a niente iniziamo dalla cosa che non c'entra a niente allora, settimana prossima quindi dal 15 fino a fine settimana sarò via e non ho avuto il tempo fino ad oggi di preparare altri video da caricare in settimana quindi è probabile che i video della settimana prossima salti in caso contrario vi avviserò su Instagram e quindi questo per dirvi che ho una settimana di vacanza in cui parto proprio la seconda cosa che vi devo dire è che c'entra col video allora in tantissimi mi avete richiesto appunto la hair girl routine io però vi devo premettere che non credo di avere una hair girl routine proprio sana 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 perché non uso prodotti naturali né nulla del genere ho provato l'estate scorsa a usare shampoo e balsamo con ingredienti di origine naturale però a parte che ero costretta a lavarli più frequentemente e poi insomma è una routine che costa parecchio ecco quindi al momento l'ho messa in stand by poi soprattutto d'estate in cui sono costretta a lavare i miei capelli più spesso a causa del caldo è infattibile il momento quindi quello che faccio io sicuramente di giusto tra tutte le cose è cercare di non lavarli troppo spesso perché ci sono persone che li lavano ogni giorno io con il mio tipo di capelli mi basta in una situazione normale lavarli due volte a settimana adesso che è estate ovviamente sono costretta a lavarli tre qualche volta mi è capitato anche quattro volte perché magari esco e fa caldo e sudo quindi ovviamente li devo lavare però in una situazione normale due volte alla settimana mi bastano ho i capelli in questa lunghezza sono lunghi per me adesso qualche mese fa li ho tagliati un bel bel po' ed erano lunghi così e questa lunghezza invece non mi sa di nulla quindi li devo tagliare tagliare i capelli sicuramente fa bene e devo dire che col mio tipo di capelli è anche molto comodo perché avendoceli ricci naturalmente non proprio ricci ma mossi molto 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 mossi è più facile gestirli rispetto a quando ce li ho a lunghi e niente poi stavo dicendo per quanto riguarda la non consistenza sì anche ho dei capelli sottili adesso meno rispetto al periodo precedente però comunque non ho dei tronchi di albero come proprio fibre del capello e poi la cute questo è il mio colore naturale quindi li ho leggermente schiariti la cute è normale è la prima che ovviamente tende a sporcarsi e però non è particolarmente unta mentre le punte sono normali tendenzialmente secche dipende quando ce li ho corti così sono normali nel senso che è una lunghezza che riesco a curare abbastanza bene allora prima di parlarvi dei prodotti di per sé che non sono nulla di speciale vi voglio far vedere la mia spazio io uso solo questa per i miei capelli da ormai tre anni ce l'ho la porto anche in viaggio perché comunque non è piccolissima neanche grande è la Tango Deezer Mini che è una spazzia che mi piace principalmente ovviamente per il fatto che tende a togliere il crespo dai capelli ovviamente la uso solo quando sono liscia su tutta la lunghezza cioè su tutti i capelli quando sono mossa la uso solo per sistemare la parte sopra la riga eccetera perché non posso pettinare i capelli che sono quasi ricci ecco che sono ragazzi ma che sono in 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ferro, piastre, phon. Io non uso phon mai né d'estate né d'inverno perché quando li voglio lisci riesco a farli lisci anche quando li lascio asciugare naturalmente e se li voglio boccolosi con il phon mi diventano super crespi quindi non lo uso. La piastra la uso, adesso l'ho usata poco giusto per allisciarli leggermente ma non 3 di spaghetto. E uso una piastra col vapore che non è che va a vapore nel senso che è una piastra normale che ha la funzionalità a vapore. Praticamente avete un contenitore piccolino dove mettere un po' di acqua distillata e il vapore serve a proteggere i capelli e a togliere il crespo sempre. Quindi questo è quanto per quanto riguarda gli accessori ovviamente di arriccio a capelli non ne uso. Allora, iniziamo dai prodotti che mi sa che è la cosa che vi interessa di più. Per quanto riguarda gli shampoo, il mio preferito è questo, che è una marca non naturale ovviamente, la L'Oreal. si chiama Elvai Color Big Shampoo Protettivo e mi piace molto perché pulisce bene i capelli e non li secca e lascia un buonissimo profumo su di me gli shampoo non lasciano profumo questo invece si, molto molto buono buonissimo sembra proprio di parrucchiera e questo è stato pensato appunto per i capelli trattati principalmente io non ho fatto colore, io ho fatto un leggero schiarimento che tra l'altro si sta schiarendo da solo adesso col sole, sto diventando bionda praticamente niente questo è il mio preferito tra l'altro oggi ne ho provato uno nuovo che mi sembra mi lasci capelli strani che non mi piace invece questo è una sicurezza poi per quanto riguarda gli shampoo più raramente al massimo una volta a settimana uso questo dove l'ho messo? eccolo qua questo l'ho comprato da Acqua Sapone mi pare quando ho fatto l'usche d'usche perché i miei capelli non sono genere cioè la base sembra vedete questo è il mio colore la base è un marrone chiaro ma comunque non sembra tendente al rosso invece quando li schiarisco esce fuori molto il rosso quindi la parrucchiera mi ha consigliato di utilizzare uno shampoo anti giallo e questo è il professional style anche pro shampoo anti giallo che è praticamente uno shampoo viola che poi una volta c'è la schiuma ad esempio non esce viola però è viola vedete eccolo e boh allora io lo sto usando con la frequenza che vi ho detto precedentemente non so non so dirvi sicuramente non sono gialli 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 però c'è da anche mettere in conto che adesso col sole si schiariscono anche un po' da soli però non sono neanche il cenere che mi piacerebbe avere quindi boh se conoscete uno shampoo anti giallo buono da consigliarmi per favore aiutatemi perché sicuramente ne sapete voi di più rispetto a me comunque sicuramente non è malaggio non è più aggressivo rispetto a uno shampoo normale infatti si usa poche volte a settimana questo qui poi io abbino allo shampoo sempre il balsamo o la maschera perché cosa faccio? metto lo shampoo solo sulla cute e poi solo con la schiuma che rimane pulisco le lunghezze senza aggiungere shampoo perché sennò ho secca i capelli sulle lunghezze invece tengo per un po' di minuti sempre mentre magari lavo il resto del corpo un balsamo o una maschera io ho trovato il mio balsamo preferito peccato che non lo potrò mai più ricomprare perché arriva dal Giappone è il balsamo più idratante che io abbia mai trovato e che funziona davvero che lascia i capelli profumati è di questa marca che si chiama Essential si chiama Auto Smooth Technology poi tutto il resto è scritto in giapponese conditioner questo qua mi è piaciuto tantissimo anche lo shampoo che l'ho finito mi era piaciuto tantissimo ne basta una noce neanche sì dai una noce una nocciolina è perché è molto molto mossoso guardate è molto mossoso vedete è tenso 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 e ne basta poco e veramente mi lascia cavalli morbidissimi e mi piace moltissimo della marca Kau credo sia questa qua non credo proprio sia reperibile qui in Europa però tanto meno in Italia però è veramente buono 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 i giapponesi ci sanno fare ecco in alternativa dato che per me i balsami a parte per districare i capelli a parte la recensione come quella che vi ho fatto vedere non idratano i capelli io uso sempre una maschera al posto del balsamo l'ho appena ricomprata ma compro sempre questa la mia preferita è questa di Garnier la ultra dolce maschera nutriente capelli sacchi spinti si chiama maschera maschera meravigliosa all'oreo di argan e camiglia ovviamente se conoscete dei marchi buoni non eccessivamente costosi di prodotti naturali o almeno con buoni ingredienti io consigliatemeli perché so che non fa tanto bene usare queste cose cioè nel senso non è che non faccia tanto bene ma non curano realmente i capelli è tutta un'illusione a causa dei siliconi eccetera quindi mi farebbe piacere provare qualcosa di naturale facilmente reperibile ovviamente questa è la maschera un buon profumo ma nulla di che e niente io solitamente prendo una bella spadaffiata me la metto sui capelli la lascio libera un po' e poi la sciacquo via e questo è quello che faccio sotto la doccia cioè basta comunque quando mi lavo i capelli dopo cioè per il dopo ho dei prodotti carini da farvi vedere allora quando non uso piastra né niente o comunque sempre dopo la doccia con i capelli umidi spruzzo questo so che esistono di diverse marche ma io uso questo che è di Primark si chiama Smooth Move Coconut and Bamboo Living Conditioner è praticamente un idratante spray quando ho i capelli umidi io lo spruzzo sotto i capelli e mi piace moltissimo prima di questo usavo spesso la mousse per i capelli che adesso non ho qua perché l'ho finita quindi non ce l'ho da farvi vedere comunque usavo anche quando volevo i capelli ricci ma mi stava meglio quando ce li avevo più lunghi comunque un po' di mousse come si chiama la spuma per capelli di Nivea però adesso che con questa lunghezza basta anche solo questo qui e niente non è nulla di che però sa di cocco è buona e mi sembra che la sua parte la faccia poi quando piasto i capelli quindi li tratto uso questo che è lo style micro gocce illuminanti al semi di lino queste qui che sono praticamente delle gocce che io uso principalmente perché proteggono i capelli dal calore della piastra e niente principalmente questo l'utilizzo che ne faccio io uso questo ma ce ne esistono mille altri quindi secondo me un protettore bisogna sempre usarlo quando si piastrano o comunque si trattano i capelli con ferri eccetera ultimo prodotto che nel video quello della della parrucchiera vi è piaciuto molto è la mulac huilberry pagato è questo qui che è un olio per capelli che io uso dopo quando sono asciutti o quando li ho preso spiastrati che serve a renderli lucidi e morbidi e soprattutto leggeri lascia veramente per i leggeri e non un ticci è stato molto criticato quest'olio perché ha dentro diversi oli ma anche dei siliconi volatili e quindi per questo è stato molto criticato però a me piace ha un profumo buonissimo di questo ne basta un pistacchio come grandezza veramente poco per una quantità così ovviamente se ne avete di più così sono più lunghi però comunque ne basta poco in generale questo ce l'ho da più di un anno ormai e già guardate quanto ce n'è ancora quindi e lo usa anche mia madre perciò e nulla questo è qua spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video ovviamente se settimana prossima salterà il video non preoccupatevi su instagram ci sono sempre e niente ciao 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 Grazie a tutti